Intanto un commento su questa vittoria del Pescara? No, sicuramente è una vittoria importantissima per noi, ci tenevamo tanto, comunque abbiamo fatto secondo me una buona partita, abbiamo creato tanto, comunque le partite puoi vincere anche al novantesimo. Raccontaci da vicino il duello Pescara-Bisogno. Voglio fare i complimenti al loro portiere perché comunque in diverse occasioni si è fatto trovare pronto, e in più faccio i complimenti alla nostra squadra perché fino al novantesimo non ha mai mollato, ho sempre creduto di poterla vincere. Ti faccio una provocazione Aristidi, il secondo tempo che hai fatto Avellino, io sul giornale ho scritto scherzando un po', sembravi Mbappé al Mondiale, però poche volte quest'anno, vuoi più continuità oppure sono le tipologie di partita? No, ogni partita c'è la sua storia, poi è normale, più continuità hai e più magari riesci a dimostrare il tuo valore. Io sto lavorando molto su questo e piano piano spero di poter dimostrare le mie qualità. Chiudiamo così, il mercato ti riguarda di gennaio? Io sono concentrato qua, ho la testa qua col Pescara, non so, non ho parlato di niente, sono contento di star qua io.